Allora qua adesso Un argomento un po' spinoso Perché Perché Gabriele Gabriele Il gabbrone Allora il gabbrone Purtroppo Nonostante io L'abbia seguito Tra tutti quelli che fanno Irla È quello che ho seguito di più Dopo Omi Sì dopo Omi Lui purtroppo fa Le IRL E la ludopatia Devo fare complimenti Non mi fa ridere sta cosa Che il content Si chiama la ludopatia Sì che in realtà È un problema sociale Sì infatti Ma è anche chi ha Gabriele Sì Lui Cosa che volevo dire Ah tra l'altro Mi verrebbe da degli complimenti Per Per i 10.000 aspect di ieri Che ha fatto per la prima volta 10.000 spettatori Con la ludopatia Che non è scontato E non è che tutti quelli Che fanno ludopatia Fanno 10.000 aspect Però ragazzi Non me la sento Di metterlo in numeri uno Poi GG anche per la sua ragazza Comunque Beh Dalian è una gran bella ragazza Una gran Molto molto bella Si Si vede che il Gab ha Delle grandi Lo sharp E Come ragazzo il Gab Beh il Gab Può essere Può essere affascinante In qualche modo Ah e vabbè ieri ha fatto 30k Blur Col Casino Insieme a Lix Non è il k Ah il k Allora ragazzi Io Il Gab Non saprei dove metterlo Per me dovresti metterlo In fanno il loro Eh ma Guarda Ma Giusto perché Non apprezzo molto I due I due Cioè faccio una media Tra il fatto che L'ho conosciuto Ed è un ragazzo Molto simpatico Con cui Soprattutto Flyve Ci puoi fare due chiacchiere Due risate Che alla fine è un ragazzo Anche umile Tutto quanto Anche un po' impacciato De quello è bello E Il fatto che lui Comunque porti due content Che purtroppo Io non Non apprezzo molto Sulla piattaforma Quindi lo metto in file suo